Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Venerdì 1 ottobre, oggi è partita internazionale Ferrara in presenza, un appuntamento molto atteso e che ha visto insomma già una partecipazione importante nel rispetto naturalmente delle misure anti-covid. Poi parleremo della situazione appunto del bollettino della pandemia per quanto riguarda Ferrara, una situazione stazionaria per fortuna con contagi che restano più o meno nella media, con nessun nuovo decesso e anche con un calo della pressione sugli ospedali, quindi con meno recovery. Poi parleremo anche di clima che è chiaramente uno dei temi affrontati internazionali ma di questo si è discusso anche a Milano in questi giorni e parleremo anche dell'allarme frodi pesce in tavola da parte dell'associazione UECOP, vedremo di che cosa si tratta e poi in casa incontrerà il Parma e naturalmente senteremo la conferenza stampa di Clotet che si è tenuta appunto nel pomeriggio. Però apriamo subito con un infortunio sul lavoro. Ieri sera poco dopo l'evento in via Collari a Renazza nel comune di Cento, un uomo stava controllando i lavori di ristrutturazione di un capannone di sua proprietà ma è caduto dall'impalcatura riportando diversi e gravi traumi. È successo, dicevamo, poco dopo l'evento nel comune di Cento a Renazzo. L'uomo è un imprenditore del luogo di 55 anni all'arrivo dei carabinieri. A lui stesso ha spiegato la versione dei fatti poco prima di essere trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale maggiore di Bologna dove è ricoverato in prognosi riservata sul posto. Oltre ai carabinieri anche un'ambulanza con gli operatori del 118 e gli accertamenti per far luce su quanto accaduto sono affidati ai carabinieri di Cento. E dicevamo in apertura oggi, prima giornata del festival del giornalismo di internazionale che ritorna a Ferrara in presenza dopo che nel 2020 a causa della pandemia aveva dovuto traslocare diciamo così quasi per intero online. Da oggi quindi fino a domenica 3 ottobre in città sono tornati dibattiti, workshop, rassegne e tanto altro. Questa mattina l'inaugurazione all'Apollo. Internazionale edizione 2021, lei ha detto dopo l'edizione omeopatica del 2020 per fortuna si ritorna in presenza e credo che la sala piena di giovani ne dia la testimonianza. Mette di buon umore, sì sì la sala piena mette di buon umore, tante persone, insomma ci è mancata molto Ferrara, ci è mancato molto questo appuntamento con tutte le persone, con il sole e oggi è meraviglioso e quindi insomma siamo veramente contenti di essere tornati qui quest'anno. Dei saluti c'era già tutta l'essenza di questa edizione 2021, anche la Commissione Europea naturalmente darà il suo contributo. Sì, come sempre voglio dire un festival che si vuole internazionale come il nostro non può eludere la dimensione europea, quindi la Commissione Europea ci sarà sì, tanto per raccontare un pochino che cosa succede a livello globale quanto poi affronteremo anche altri temi più nello specifico, per esempio ci sarà un incontro sull'ascesa delle forze populiste e autoritarie in alcuni paesi dell'Europa dell'Est, però ovviamente non ci sarà solo l'Europa, noi ci teniamo moltissimo ad aprire una finestra sul mondo, il mondo inteso sui quattro continenti e anche magari delle situazioni che rimangono più in ombra spesso sulla stampa italiana e non solo. Che cosa si aspetta da queste tre giorni? Cosa deve uscire secondo lei? C'è sicuramente una richiesta di temi, di risposte anche per tracciare un po' il futuro? Sì, direi che Internazionale Ferrara come anche in generale i festival sono soprattutto appuntamenti importanti perché le persone possono incontrarsi, scambiarsi opinioni, confrontarsi, conoscere autori, autrici, nel caso nostro giornalisti e giornaliste che vengono a tutto il mondo e quindi il segnale più importante credo che sia il fatto che questa voglia, questo desiderio, questo bisogno di incontrarsi, di stare insieme è rimasto intatto, insomma e questa è la cosa più importante, che è rimasta intanto la voglia di capire quello che succede nel mondo, tutte le sue complessità e sfaccettature. Salute globale, disuguaglianze a livello planetario e interne anche alla società, tutte le criticità che la pandemia ha fatto esplodere o ha rivelato che erano già presenti, penso ai giovani al lavoro, al ruolo delle donne nella società, agli anziani ai luoghi di cura e appunto poi dicevo disuguaglianze perché le disuguaglianze non sono state solo interne alle società e l'abbiamo visto con l'andamento della pandemia come questa cosa ha evidenziato alcune linee di frattura interna ma anche a livello globale penso a migrazioni, penso a conflitti, penso a situazioni che chiaramente anche lì la pandemia ha esacerbato. Il clima tra i temi di internazionale a Ferrara e di clima ci occuperemo in questo servizio, Greta Thunberg e tanti giovani da tutto il mondo per il meeting sull'ambiente che anticipa la 26esima conferenza COP26 di Glasgow organizzata dalle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, per molti la conferenza di Glasgow viene considerata come l'ultima opportunità del mondo per tenere sotto controllo le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici. Si svolta al centro congresso di Milano la pre-COP26 dedicata ai giovani, la Youth for Climate, conferenza dei giovani sul clima, organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla pre-COP26 che riunisce dal 30 settembre al 2 ottobre a Milano i ministri dell'Ambiente in vista della COP26, conferenza annuale dell'ONU in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. 400 giovani, due per ciascuno dei 197 paesi dell'ONU, hanno discorso in questi giorni con esperti su tutti gli aspetti della crisi climatica. Alla pre-COP italiana partecipano i ministri del clima e dell'energia di un gruppo selezionato di paesi per discutere di alcuni aspetti politici fondamentali dei negoziati e approfondire temi chiave che saranno affrontati alla COP26 in Inghilterra. Sulla crisi climatica, ha detto Greta Thunberg, dai leader mondiali sentiamo solo parole, un bla 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 che non porta a nulla, infatti le emissioni continuano ad aumentare. Per invertire questa tendenza, ha aggiunto, servono soluzioni drastiche e poiché non abbiamo soluzioni tecnologiche, ha concluso, dovremmo cambiare noi. La crisi climatica, ha sottolineato, è sintomo di una crisi di più ampio respiro, la crisi sociale della ineguaglianza, una crisi che nasce dall'idea e che alcune persone valgono più di altre. I nostri leader non agiscono volutamente, ha sottolineato, e questo è un tradimento, non possono dire che lo fanno perché continuano ad aprire miniere di carbone e a sfruttare giacimenti senza aumentare i fondi ai paesi vulnerabili. Poi, la bordata finale, che rivela come non ci sia nulla di ingenuo in questi giovani attivisti che si mobilitano per i diritti alla salute, alla vita, alla tutela delle risorse a residui del pianeta. Selezionano giovani, ha detto Greta, come noi, facendo finta di ascoltarci, ma non è vero, non ci hanno mai ascoltati. Greta Thomberg ha le idee chiare. Il cambiamento climatico, ha detto, significa posti di lavoro verdi, non è solo una minaccia, è soprattutto un'opportunità. Per creare un pianeta più verde e più sano, dobbiamo cogliere questa opportunità. Quindi, il richiamo ai leader mondiali da parte della giovane attivista ugandese per il clima Vanessa Nakate, per aiutare le popolazioni dell'Africa, ha detto che soffrono i danni maggiori della crisi climatica, nonostante il continente metta solo il 3% dei gas serra. Ha fatto ecco alle loro affermazioni il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, che prendo i lavori del pre-Cop 26 di Milano, ha detto che il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali e globali devono essere trattati insieme. È la prima volta, ha poi aggiunto, che si fa un esperimento di governo dei giovani e lo scopo è quello di dare in mano a voi un vero e proprio esperimento di governo del futuro. Speriamo che le vostre proposte siano buone e da cittadino e da padre non posso che avere una speranza di vedere cose che con la vostra energia fresca noi vecchietti non possiamo vedere. Ora il bollettino per quanto riguarda il Covid a Ferrara e Provincia, perché continuano a rimanere stabili i numeri dei nuovi positivi al virus. A dirlo è il bollettino che fa riferimento a giovedì 30 settembre, dove sono registrati 18 nuovi casi da Covid positivo individuati con 378 tamponi refertati. 37 il numero dei nuovi guariti comunicati dal Dipartimento di Sanità Pubblica. Un bollettino, quello odierno, che non registra nessun decesso, ma evidenzia due nuovi ricoveri a Sant'Anna per Covid positivo e un calo della pressione sugli ospedali. A Cona ora sono 21 i posti letto occupati, di cui 4 in terapia intensiva sui 61 disponibili. Cala anche il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid dell'ospedale del Delta di Lago Santo, dove sono 7 i posti letto occupati sui 10 disponibili. In Regione sono 351 nuovi casi di positività al coronavirus, individuati appunto nelle ultime 24 ore, sulla base di oltre 26 mila tamponi refertati. Si contano purtroppo altri due decessi, una donna di 96 anni nel Parmense e un uomo di 73 anni in provincia di Modena, mentre il numero dei ricoverati rimane sostanzialmente stabile. In terapia intensiva ci sono 46 pazienti, lo stesso numero di ieri, mentre negli altri reparti Covid ce ne sono 374 in meno nelle ultime 24 ore. Continua intanto a ferrare provincia la campagna vaccinale. Sono state 1.541 le dosi di vaccino somministrate nella giornata di giovedì 30 settembre. Da inizio della campagna sono 271.746 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose, 240.154 i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose e 507 le persone che hanno ricevuto già la terza dose. Cambiamo ora decisamente argomento, parliamo di cibo, parliamo di pesca, dalla glassatura per il peso agli scambi nel piatto. Ecco le frodi a tavola ai danni dei consumatori per quanto concerne il pesce. Sulle nostre tavole arriva sempre più pesce straniero e l'Unione Europea delle Cooperative lancia un SOS frodi, meglio il chilometro zero specifico. Vediamo. Con il balzo delle importazioni di pesce straniero in Italia che fanno registrare un più 24% in quantità nei primi sei mesi di 2021 è SOS truffe a tavola con la flotta tricolore che negli ultimi 35 anni ha perso quasi quattro imbarcazioni su dieci con un impatto devastante su economia e occupazione. È quanto emerge da un'analisi dell'Unione Europea delle Cooperative UE-COP su dati Istat in occasione del lancio del Piano Nazionale delle Cooperative UE-COP per il consumo di pesce made in Italy a chilometro zero nell'ambito del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole. Gli italiani, Evidenza e UE-COP, mangiano circa 28 chili di pesce all'anno, un dato superiore alla media europea ma un quantitativo più basso se confrontato con quello di altri paesi che hanno un'estensione della costa simile come ad esempio in Portogallo dove se ne consumano invece quasi 60 chili. Ma in Italia la crisi dei pescherecci continua a UE-COP diminuisce la possibilità di portare in tavola pesce made in Italy favorendo gli arrivi dall'estero di prodotti ittici che non hanno le stesse garanzie di sicurezza di quelle tricolori. Una furbata per speculare sul peso ai danni dei consumatori continua UE-COP è la glassatura in cui l'acqua utilizzata per mantenere idratata la superficie del pesce viene fatta congelare creando uno strato superficiale di ghiaccio oppure mediante salamoia o iniezioni possono essere aggiunti additivi alimentari come i polifosfati o la glicina che pur non essendo in genere nocivi per l'uomo tendono a trattenere l'acqua aumentandone il peso del prodotto. Un discorso a parte meritano poi i pesci da consumarsi crudi o poco cotti come nel sushi con il rischio della presenza di un parassita se non viene praticato l'abbattimento termico a meno 20 gradi per almeno 24 ore oppure meno 35 gradi per almeno 15 ore. Fra le truffe più diffuse sottolinea UE-COP c'è poi lo scambio di specie di minor valore al posto di quelle più pregiate. Acciughe, alici e sardine vengono spesso sostituite da spratto o papalina a specie che vivono nell'Atlantico. Per combattere le frodi evidenzia UE-COP è fondamentale prevedere l'obbligo di indicazione in etichetta del giorno in cui il pesce è stato pescato in modo da garantire la massima informazione e trasparenza sulla freschezza del prodotto e l'indicazione di origine va inserita oltre che sui banchi del mercato o dei supermercati anche per i piatti proposti nei menu dei ristoranti, un po' come avviene per segnalazione sull'uso di prodotti freschi oppure suggerati. Ora parliamo della SPAL. Domani Almazza contro il Parma. Buffone e compagni vanno affrontati senza condizionamenti. Il rientro di Tripaldelli, unica variante rispetto alla squadra schierata contro la Ternana, ma sentiamo Clotet nella conferenza stampa di oggi. Si affronta una SPAL che fa leva sul collettivo e un Parma che invece sino ad oggi perlomeno ha fatto leva soprattutto sulle individualità. Sì, infatti è una squadra pericolosa dal punto di vista individuale che fa buona associazione collettiva, ma è un'idea un po' diversa dalla nostra. La mia mentalità sempre pesa molto, è molto importante il collettivo. Parma è una squadra molto forte individualmente, ma come collettivo può avere anche una forza grande. ma è certo che è una partita difficile per noi perché la qualità individuale del Parma tutti sappiamo che a una partita sempre può fare una differenza. Noi dobbiamo stare con una concentrazione massima, sapere combattere l'individualità con la forza del gruppo, la forza di giocare con i nostri tifosi e fare una partita con il stesso atteggiamento, mentalità e calcio che la squadra viene facendo visto l'inizio. Visto nell'interrogativo della settimana, dopo le sue dichiarazioni a termine della gara di termini e quello del portiere, fiducia ancora a Tiamma? Sì, perché questo ha stato un po'... si è speculato un po', si è speculato per questo perché io ho detto chiaramente che noi non dobbiamo prendere quello gol. Quello gol arriva in una situazione di un fallo laterale dove la squadra ha lavorato molto per restare in un'organizzazione forte in tutto il fallo laterale, infatti l'espulsione del calciatore del Pordenone arriva dopo una pressione di un fallo laterale contro il Pordenone che è lo stesso lavoro che abbiamo fatto, ma in Ternana abbiamo fatto errori tattici collettivi in quello fallo laterale che è arrivato a quella situazione di gol. Dopo si è pensato che io pensavo solamente che l'errore era del portiere. Per me il calcio è collettivo, tutti hanno il suo ruolo, tutti possiamo fare meglio nel nostro ruolo, primo io, ma io lo sempre da un punto di vista collettivo. Io penso che l'atteggiamento e la mentalità di tutti i calciatori e la fiducia mia in tutti i calciatori che noi teniamo è la massima come tutti e tutta la situazione di gioco che io analizzo lo faccio sempre dal punto di vista collettivo. Capito che hai errori individuali che passano nel calcio, passano in tutto il gioco, passano nella vita, passano nel calcio, è normale, ma io tutta la valorazione della squadra sempre la faggio in collettivo. Ora in ciclismo, grande giornata, sabato 2 ottobre con lo spettacolare e durissimo Giro dell'Emilia 2021. Sabato 2 ottobre torna l'edizione 104 del Giro dell'Emilia Granarolo e il Giro dell'Emilia Biper, banca internazionale, donne elite. L'attesa gara maschile prenderà il via dal centro di Casalecchio di Reno. Il raduno di partenza, il palo con presentazione e l'incolonnamento saranno infatti ospitati nell'area compresa tra la Casa della Conoscenza, Piazza del Popolo e Giardini a Mendola. Un tratto di trasferimento di 5 km la percorrerà da natura controllata, condurrà i conduttori verso Zola Predosa, dove in prossimità del municipio sarà posto il km 0 e sarà dato il via ufficiale alla competizione. La prima parte del percorso si contraddistingue per un circuito completamente pianeggiante che dopo aver attraversato Anzola dell'Emilia condurrà nuovamente il gruppo a Zola Predosa. Dopo 155,9 km di saliscendi, la prima delle 5 scalate lungo il portico più lungo e probabilmente più bello del mondo, quello di San Luca. E se i portici di Bologna hanno ottenuto proprio quest'anno dall'UNESCO la straordinaria riconoscimento come patrimonio dell'umanità, il Giro dell'Emilia, con le sue 5 scalate a San Luca, può essere a pieno diritto riconosciuto patrimonio del ciclismo mondiale. Il primo passaggio sulla linea del traguardo giunge dopo 158,1 km. All'arrivo mancheranno 4 giri per complessivi 37 km e sicuramente sarà in questi, ormai famosi e ben noti a tutti, che si svilupperà l'azione decisiva da cui uscirà il campione che alzerà le braccia al cielo dopo 195,3 km di corsa e circa 3.300 metri di dislivello complessivo. Tra le attesi Big Alvia figurano i vincitori del Tour de France e della Vuelta di Spagna, Tadej Pogacar e Primoz Roglic e il fuoriclasse belga Remo Evenpole. Soltanto 14, dico soltanto tra virgolette, che è il massimo che abbiamo mai avuto in questi ultimi anni, in questo ultimo decennio diciamo. È sempre stata una gara considerata, ma mai come quest'anno. Non soltanto come quantità di squadre importanti, ma anche come qualità. veramente soddisfatto da questo lato qui, credo di poter dire che io e tutto il mio gruppo siamo orgogliosi di poter presentare al pubblico, non dico bolognese, dico ormai di tutto lo sport nostro italiano, un parterre così importante. Come italiani mi viene in mente di dire il bivincitore del Giro dell'Emilia che è Ulissi, Ulissi per Antanomasia questa corsa è quella che lui ci ha sempre tenuto e alla sua portata c'è, poi dopo c'è Ciccone che è un altro italiano molto forte, ma qui di forte ce ne sono tantissimi. Questa mattina abbiamo fatto una riunione molto importante e ringrazio la Prevettura, la Questura, oltre tutte le forze dell'ordine, non ci hanno detto bisogna fare, praticamente si è visto già anche in televisione, si può venire a vedere la corsa. Allora chiudiamo qua naturalmente gli appuntamenti subito dopo il TV giornale alle 21.05 la rubrica Avis Perle che propone l'evento dello scorso 12 settembre con l'inaugurazione della nuova sede comunale dell'Avis di Argenta e poi alle 22.20 una nuova puntata di A2x2 dedicata alla scienza targata Unife a parlare, si parlerà di una nuova scoperta Covid-19 realizzata da un'equipa multidisciplinare a parlare moltissimi ricercatori tra cui Angelina Passaro coordinatrice dell'equipe e naturalmente il professor Paolo Zammone. Chiudiamo qua il nostro TV giornale per gli aggiornamenti, vi ricordo il sito, la pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi, arrivederci.